Le marche fanno meglio dell'Italia nel dato dell'export, anche al netto della performance del farmaceutico. Così il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, commentando i dati export marchigiani nel terzo trimestre 2022. Il valore delle esportazioni nei primi nove mesi del 2022 è pari a 17,74 milioni di euro. Tutti i settori al centro dell'attenzione promozionale di Camera Marche, moda agroalimentare, mobile e meccanica contribuiscono in modo importante alla crescita delle esportazioni. Molto bene il calzaturiero, nonostante la perdita di quote di mercato russo. I settori che hanno dato maggior contributo alla crescita tendenziale sono articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici. E poi, oltre sette volte, il valore dello stesso periodo del 2021. Anche il tessile ha fatto bene, così come il trasporto e anche i metalli e i prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti. I paesi destinatari delle esportazioni manifatturiere marchigiane sono principalmente Belgio, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Continua a diminuire l'export verso la Russia, 163,5 milioni di euro, meno 19,9%, al sedicesimo costo della graduatoria dei maggiori mercati nei primi nove mesi del 2022.